Di Giuseppe è tutto rimandato di una settimana praticamente, ma questo era forse facilmente immaginabile, adesso possiamo dirlo. No, le partite vanno giocate, vanno vinte, è una partita difficile per noi, è una partita sicuramente difficile per l'Ascoli, bravi loro, ma noi dobbiamo pensare a noi. Quindi abbiamo vinto, siamo contenti, adesso mentalmente, fisicamente dobbiamo essere pronti per domenica, per sabato, perché chiaramente sarà la partita che a noi può regalare il sogno. La squadra è un po' tesa e contratta in avvio, poi nel secondo tempo è venuto un po' il braccino corto, nel senso che forse il Teramo ha avuto paura di vincerla questa partita e ha concesso un po' troppo al Ponte d'Era. No, però va bene, accetto quel che dici tu, è normale che un po' di tensione è giusto che ci sia, io se non sbaglio ho contato dieci palle gol, poi può darsi pure che mi sbaglio io. Il Ponte d'Era se si esclude un paio di palle messe in mezzo non ha fatto niente, però se tu dici che abbiamo... C'è stato un salvataggio sulla linea di speranza, tanto per ricordare qualcosa. Quindi meritava il Ponte d'Era? No, 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 però vi è venuto un po' di paura, dai. Detta da chi? Da me. Io non sono d'accordo, ma... Le domande le faccio io, quindi detta da me. Io do le risposte, io conto dieci, undici palle gol, non penso che dieci, undici palle gol il Teramo abbia costruito, quindi se finiva 11-1 non avevamo avuto il braccino corto. Senta, si dice che la prossima settimana il Teramo va a Savone, la partita è difficile, però l'Ascoli non è che abbia un impegno sulla carta facile, no, non è una passeggiata, visto che ha un derby con l'Ancona. Io ho detto la scorsa settimana che il Teramo andrà in Serie B, quindi continuo a dire questo, al di là di tutto quello che pensano gli altri. Allora, noi cerchiamo di vincere a Savona, poi dopodiché verrà l'Ascoli qui e noi vinceremo a prescindere il campionato. Quindi lo ribadisco adesso ufficialmente, è giusto che il Teramo vincere il campionato perché se l'è meritato. È normale che dobbiamo assolutamente chiudere la domenica perché quella partita, è chiaro che sarà una partita particolare, ma questo è in dubbio. Però ad oggi l'Ascoli può solo fare sei punti e deve vincere a Teramo perché comunque il Teramo arriverà davanti all'Ascoli, comunque andrà domenica. E questo è già un grande vantaggio, io direi a tutti che se all'inizio dell'anno avessimo pronosticato un finale così, l'avremmo firmato tutti. Quindi noi andremo a Savona non pensando assolutamente che l'Ascoli non riesca a vincere contro l'Ancona perché vincerà l'Ascoli. Però noi vinceremo a Savona perché dobbiamo vincere per chiudere la domenica. E quindi il Teramo va in Serie B? Devo ripeterlo? Sì. Il Teramo andrà in Serie B?